buonasera a tutti allora iniziamo abbiamo dato qualche minuto in più per consentire la fluenza siccome è un po macchinosa la registrazione ma ormai ci facciamo l'abitudine ci abbiamo fatto l'abitudine mi fa molto piacere essere qui e presentare questo incontro questa sera che noi abbiamo appunto voluto malgrado tutte le limitazioni che ben conosciamo di questo periodo io ringrazio il collegio santa caterina in particolar modo la rettrice la professoressa torre per l'ospitalità e per come sempre aver accolto con con immediatezza e simpatia la nostra proposta di continuare a proporre degli eventi culturali dei momenti di approfondimento anche appunto in questo momento in cui un po per prudenza e un po per riflesso indotto siamo tutti dire portati un po di più a chiuderci ma appunto noi pensiamo che ovviamente nel rispetto di tutte le norme di di prudenza che è necessario osservare non bisogna farsi paralizzare e si può continuare a vivere dei momenti anche in cui ritrovarsi assieme per ascoltare come faremo questa sera una una relazione su un tema molto interessante che noi abbiamo voluto proporre non ovviamente in maniera casuale in questo momento dell'anno ma perché voi sapete che in questi giorni si sta celebrando la settimana di preghiera annuale per l'unità dei cristiani questo è un tema vorrei dire molto caro e molto importante per tutti i cristiani di tutte le confessioni un tema molto caro alla nostra storia la storia della comunità di Sant'Egidio che da sempre ha vissuto il lavoro per l'unità dei cristiani come una parte fondamentale del proprio carisma della propria missione certamente potremmo dire che in un mondo globalizzato e per certi versi unificato ma per altri versi molto frammentato e molto conflittuale l'unità dei cristiani sarebbe una testimonianza fondamentale c'è bisogno di costruire unità c'è bisogno che i cristiani diano testimonianza di questo in un mondo che sembra dividersi sempre di più in un mondo in cui ritornano in auge i nazionalismi gli etnicismi le chiusure identitarie quando si parla di ecumenismo però diciamo che si ha la tendenza a vederlo a identificarlo come un tema un po' da specialisti un tema da teologi molti appunto penso che anche frequentano magari gli ambienti ecclesiali non sanno nemmeno bene che cosa sia perché è qualcosa che viene visto come diciamo appannaggio di alcuni teologi delle varie confessioni che si incontrano cercano di mettersi d'accordo per superare quelle divergenze teologiche che poi la storia ha consolidato e che si fa così fatica a rimarginare per giungere all'unità in realtà sotto un certo punto di vista potremmo dire che la divisione tra nel nel popolo dei fedeli che le divisioni tra le diverse confessioni cristiane hanno creato sono quasi più gravi forse delle stesse divisioni teologiche e soprattutto però l'ecumenismo non è solo un qualcosa che si può lasciare appunto al dialogo teologico che naturalmente è fondamentale perché è anche giusto che vengano affrontati i nodi di pensiero teologico che si sono creati in questi secoli ma fondamentale è perseguire il dialogo e la fraternità tra le diverse chiese cristiane anche in quella che è la vita ordinaria della chiesa in fondo la nostra è una realtà sempre più di convivenza anche la nostra italiana sorprende sempre quando si dice qual è la prima comunità religiosa non cattolica in Italia tutti pensano subito sono i musulmani e l'islam non è assolutamente vero sono i cristiani ortodossi ma non siamo abituati a pensare diciamo così alla presenza di cristiani di un'altra confessione come anche a una sfida diciamo così di di vivere di costruire un vivere assieme di costruire un di costruire un dialogo su questo piano questa sera noi ci addentreremo in questo tema del dialogo ecumenico quindi non da una prospettiva teologica ma a partire da una storia ben precisa una storia che ci parla di unità nella difficoltà unità nella persecuzione nella locandina di questo di questa serata c'era un'immagine che è un particolare di un'icona che è l'icona dei nuovi martiri del novecento che si trova nella chiesa di san bortolomeo all'isola tiberina a roma che venne affidata da giovanni paolo secondo alla comunità di santigini in occasione del giubileo del 2000 dopo che nel proprio nel giubileo del 2000 giovanni paolo secondo volle per la prima volta celebrare la memoria dei nuovi martiri del novecento e nella enorme mole di di storie di storie di vita e di fede vissuta che emersero nei lavori della commissione nuovi martiri e nei lavori per portare a galla la storia del martirio dei cristiani nel novecento uno degli elementi che che emersi più chiaramente che anche giovanni paolo secondo poi come dire fece proprio e propose fu quello dell'unità nel martirio sia del fatto che nel corso del novecento nei luoghi di dolore del novecento i cristiani si erano trovati fianco a fianco e spesso avevano vissuto un'unità nel esortarsi nell'incoraggiarsi a vicenda nel sostenersi talvolta anche proprio nel salvarsi la vita a vicenda e sicuramente una delle storie di dolore che hanno caratterizzato il novecento è quella appunto dell'unione sovietica e della persecuzione dei cristiani nel periodo sovietico noi abbiamo questa sera la fortuna di avere con noi simona merlo che è professore associato di storia contemporanea all'università roma 3 è una studiosa della russia dell'unione sovietica e dell'europa orientale in particolar modo ma non solo delle delle chiese dell'europa orientale del caucaso e dello spazio per così dire ex sovietico quindi sicuramente una delle persone più titolate a parlare sul sul tema di questa sera noi la accogliamo con un applauso e la ringraziamo di avere accettato il nostro invito questa sera io le lascio la parola grazie allora grazie a giorgio di questa presentazione spero appunto dicevo prima di non deludere le aspettative e grazie anche agli amici della comunità di sant'egidio a pavia per avermi invitata perché è sempre un piacere venire in questa città adesso peraltro parecchio che non venivo e e credo che appunto come diceva giorgio la storia dei cristiani è anche una storia di tante divisioni perché proprio all'interno della storia che si sono si sono prodotte queste divisioni che hanno portato a un allontanamento ma se guardiamo alla storia delle del novecento e alla storia del martirio vediamo come i martiri ci aiutano ci danno un po anche una bussola per un riavvicinamento e credo che la loro il patrimonio che viene dall'esperienza dei martiri sia un grande talento da spendere quindi penso che sia proprio opportuno nel corso della settimana per l'unità dei cristiani fermarci a riflettere su una storia che come vedremo è senz'altro una storia del secolo che si è concluso ma è anche una storia che ha tanto da dire al nostro presente e anche al nostro futuro citava adesso giorgio il giubileo e questo lavoro che giovanni paolo secondo ha voluto che si facesse sulla memoria dei martiri e io proprio da questo non ci siamo messi d'accordo ma proprio da questo vorrei iniziare da una citazione che è questa al termine del secondo millennio la chiesa è diventata nuovamente chiesa di martiri le persecuzioni nei riguardi dei credenti sacerdoti religiosi e laici hanno operato una grande semina di martiri in varie parti del mondo sono le parole della lettera apostolica terzio millennio adveniente con cui giovanni paolo secondo introduceva appunto il grande giubileo del duemila e l'ho voluta citare ho voluto citare questo passo perché io credo che si presti bene a descrivere la situazione dei cristiani nel corso del novecento un secolo che in cui il martirio è tornato ad essere una realtà sembrava qualcosa appunto dei primi secoli cristiani qualcosa che era ormai sparito dalla storia al martirio invece nel novecento ritorna prepotentemente protagonista della vicenda cristiana e tra i vari scenari dove appunto il martirio ha avuto questa fa ha dato questa forte impronta nel corso nel novecento l'unione sovietica è stata uno dei luoghi dove più si è consumato questo martirio di tanti cristiani io stasera parlerò soprattutto della chiesa ortodossa non solo perché come ha detto eh Giorgio l'ho studiata ma eh anche perché essendo un grande paese ortodosso la Russia e i paesi diciamo oggi indipendenti ma all'epoca eh questi grandi territori dell'unione sovietica erano per lo più almeno nella loro parte europea ehm popolati appunto di ortodossi ma un martirio che riguardò anche cattolici luterani e appartenenti ad altre chiese quindi l'unione sovietica fu effettivamente è stato un terreno diciamo una terra di martiri e di testimoni della fede sotto un regime quale quello comunista che si professava apertamente anticristiano e che fece della persecuzione contro i cristiani uno dei suoi punti di forza perché l'uomo nuovo che il comunismo sovietico si prefiggeva di costruire doveva essere uno dei suoi tratti salienti doveva essere appunto l'ateismo allora quello che è andato in scena lungo il tempo che possiamo chiamare il secolo sovietico anche se è durato un po' meno una settantina d'anni è stato il martirio di tutto un popolo preti monaci monache laici giovani meno giovani donne uomini tutti persone che con storie diverse come vedremo ma uniti dal fatto di essere stati perseguitati e in molti casi uccisi solo per il fatto di essere cristiani io darò ehm citerò alcuni numeri e ehm citerò alcuni nomi perché credo che entrambi le cose siano importanti i numeri ci aiutano i dati ci aiutano a inquadrare come questo fenomeno del martirio in unione sovietica sia stato veramente un fenomeno di massa d'altro canto io credo che appunto c'è bisogno anche di andare all'umanità che c'è dietro questi numeri quindi credo che alcune storie mh che vorrei brevemente riportare ci aiutino anche a a vedere anche la la profondità del umana di quello che è stato il martirio in unione sovietica allora innanzitutto i numeri secondo alcuni fonti se solo consideriamo gli ortodossi si tratterebbe di circa duecentomila persone eh soltanto se ne contiamo i membri del clero condannati a morte tra il 1917 e diciamo i dati parlano del 1917 80 anche se poi gli anni diciamo più più recenti in realtà mh possiamo più parlare di persone che appunto sono morte come vedremo in seguito per esempio a degli arresti il periodo eh delle fucilazioni si colloca soprattutto all'inizio del della eh della affermazione del regime sovietico e poi al suo picco negli anni trenta più di trecento vescovi furono vittime di misure repressive più di duecentocinquanta furono giustiziati o morirono durante la detenzione secondo un'altra fonte sarebbero tra i cinquecentomila e il milione i cristiani uccisi per la fede in urs quindi se noi calcoliamo non solo il clero ma appunto il popolo sono cifre approssimative ma credo che rendano ragione della dimensione del martirio nel secolo sovietico non di tutti abbiamo notizie di alcuni si conosce la biografia va detto che dopo il crollo dell'unione sovietica è stato fatto un grandissimo lavoro di recupero della memoria di raccolta di dati di storie di altri però si conosce soltanto il nome e di una buona parte neppure questo più conosciute sono le vicende del clero di cui all'indomani del crollo dell'urs come dicevo appunto su cui c'è stato tutto un lavoro sono emerse storie come quella di padre joan kachurov parroco della chiesa di santa caratterina zarz e silo nei pressi di petrogrado che è stato il primo martire della chiesa ortodossa russa per mano dei bolscevichi fucilato senza processo il 31 ottobre del 1917 sotto gli occhi del figlio come sapete i periti ortodossi si possono sposare quindi questo giovane uno studente ginnasiale che vede appunto la vede il padre fucilato per per avere organizzato una processione e una preghiera per far cessare le lotte intestine che in quei giorni dilaniavano la popolazione di petrogrado oppure l'altro caso è quello del primo vescovo a morire martire che di cui vediamo la foto vladimir bagayevlensky metropolita di chiev si grazie metropolita di chiev dal 1915 ucciso la sera del 25 gennaio del 1918 da un gruppo di marinai bolscevichi non lontano dalla lavra delle grotte di chiev che non è un luogo casuale ma è il luogo dove è nato il monachesimo russo anche se oggi sta in ucraina è giunto fino a noi il racconto dei suoi ultimi minuti grazie alla testimonianza di chi fu presente all'esecuzione per fucilazione ve lo leggo perché da anche la misura no della di questo del modo in cui veramente questi martiri sono andate sono andati alla morte come persone assolutamente pacificate dice questa testimonianza presso l'uscita del terrazzino si avvicinò a monsignore per la benedizione il suo vecchio servitore filippe ma un marinaio lo spinse via monsignore dopo essersi avvicinato lui stesso al servitore lo benedisse lo baciò e stringendogli la mano gli disse addio filippe estrasse dalla tasca il fazzoletto e si asciugò le lacrime per la strada lungo la recensione della lavra il metropolita camminava facendosi il segno della croce quando lo condussero sul piazzale chiese mi volete fucilare qui uno dei carnifici rispose cosa bisogna forse fare cerimonie allora il metropolita chiese permesso di pregare dopo aver alzato le mani al cielo prego a voce alta chiedendo di perdonare i suoi peccati e di accogliere la sua anima nella pace poi dopo avere benedetto con il segno della croce con entrambe le mani i propri assassini disse il signore vi perdoni mi sono soffermata su questa pagina perché il martirio di vladimir fece maturare per la prima volta nella chiesa russa la coscienza di essere ormai diventata una chiesa di martiri in quei giorni a mosca si stava svolgendo il concilio della chiesa ortodossa russa dopo tantissimi anni finalmente era stato nominato era stato eletto un nuovo patriarca al patriarca tichon e immaginatevi appunto in queste in questo in questa assemblea di vescovi di tutta la chiesa russa riuniti insieme giunse appunto la notizia che metropolita vladimir era stato fucilato subito i padri conciliari decisero di introdurre nella liturgia alcune particolari preghiere per i perseguitati e per coloro che avevano dato la vita a causa della fede e della chiesa e da allora è stata nel giorno appunto della fucilazione del metropolita vladimir è stata istituita questa memoria che tuttora esiste nella chiesa russa che viene celebrata il 25 gennaio ed è appunto la preghiera diciamo la la memoria dedicata a tutti i nuovi martiri va detto che siamo appunto all'inizio del 1918 e da subito quindi da non appena i bolscevichi stabiliscono il loro potere sull'ex impero russo avviano subito una politica religiosa diciamo che le due cose vanno sempre di pari passo quindi da una parte una persecuzione dei credenti quindi al di fuori di ogni legge no come abbiamo visto appunto una fucilazione sul posto e ce ne furono tantissime eh fucilazioni senza processo persone mandate come vedremo nei campi di concentramento senza aver avuto un processo quindi tramite un processo iniquo e dall'altra parte però anche la persecuzione amministrativa quindi si fanno tutta una serie di leggi che vanno a colpire la chiesa e questo fin dall'inizio eh l'inizio di questa diciamo persecuzione di tipo amministrativo viene indicata come la legge del 20 gennaio del 1918 con cui in pratica la chiesa ortodossa russa era spogliata di ehm personalità giuridica non avrebbe più potuto mh avere il diritto di proprietà quindi tutte le le chiese i monasteri passavano allo stato quindi espropriata non solo dei beni eh no diciamo degli edifici ma anche di tutti gli altri beni tra cui eh li preziosi eh come sapete appunto se avete mai visto una liturgia ortodossa mh è molto solenne e anche eh quello che viene diciamo gli oggetti che vengono utilizzati per il culto allora ancora più che oggi erano molto preziosi quindi viene ehm vengono requisiti tutti gli oggetti sacri del culto e la celebrazione delle cerimone è ammessa nella misura in cui non turbi l'ordine pubblico laddove però era facile incolpare qualcuno di avere turbato l'ordine pubblico l'insegnamento religioso viene eh abolito da tutte le scuole di ogni ordine grado e nonostante questo appunto questo decreto nel 20 gennaio del 18 stabilisca che ogni cittadino è libero di professare qualunque religione come di non professarne alcuna in realtà di fatto eh da qui il decreto dà il via alle persecuzioni ehm peraltro una legislazione che poi sarà allargata anche agli altri territori che dal 1918 al 22 verranno inglobati in l'unione sovietica quindi si iniziano una serie di campagne antireligiose come quella proclamata all'inizio del 19 col contro il culto delle reliquie quindi vengono eh profanate le reliquie che sono molto importanti nel culto ortodosso e vengono profanate le spoglie dei santi venerati dal nei monasteri quindi una vera e propria lotta iconoclastica contro quelli che erano i simboli della religiosità popolare quindi in cui appunto il popolo a cui il popolo ortodosso era molto affezionato e poi a questa si intreccia la campagna per la chiusura dei monasteri avviata già alla fine del 18 e poi ancora nel febbraio del 22 una nuova campagna antireligiosa che requisisce appunto quanto rimane alla chiesa degli oggetti preziosi dicendo che appunto dovevano aiutare ehm gli affamati perché nel frattempo era scoppiata una terribile ecarestia ehm quindi c'è un disegno di cui appunto è ehm questo discorso della requisizione degli oggetti preziosi è un tassello importante che è quello di giungere alla liquidazione della chiesa stessa così quando nella città di Shuia scoppiano dei disordini tra un gruppo di fedeli ortodossi che cercavano appunto di impedire la requisizione degli oggetti eh preziosi della loro parrocchia e reparti dell'armata russa Lenin scrisse a un altro dirigente sovietico Molotov che era giunto il momento di stringere la morsa attorno alla chiesa per procedere quindi alla sua liquidazione. È un documento noto se cercate qualche trasmissione trasmissione sul chiesa russa sotto il regime sovietico su internet spessissimo viene riportata questa frase che però leggo perché dà anche un po' il tenore ecco di che cosa voleva dire l'atteggiamento del governo eh bolshevico contro i credenti. Dice afferma Lenin proprio ora e solo ora cioè siamo nel pieno della carestia noi dobbiamo sferrare il più deciso e spietato attacco al clero e reprimere la sua opposizione con una tale crudeltà che essi non se ne dimentichino per i prossimi decenni. Quanto maggiore sarà il numero degli esponenti del clero reazionario e della borghesia reazionaria che in questo modo ci riuscirà di fucilare tanto meglio sarà. Fu così che membri del clero ma anche semplici fedeli furono arrestati processati e condannati a morte con l'accusa di essersi opposti alle requisizioni. Tra essi il metropolita di Pietrogrado viene in Casansky fucilato insieme ad altre tre persone la notte tra il dodici e il tredici agosto ventidue dopo un processo inipo. Appunto uno di quei processi a cui mi riferivo prima. Se vi capita di andare al cimitero della labbra di Aleksandr Nievski a San Pietroburgo tuttora c'è una tomba vuota che lo ricorda perché il suo corpo non fu mai trovato. Nelle sue ultime parole il testamento spirituale espresse il dolore per essere considerato un nemico del popolo. Scrive naturalmente respingo tutte le accuse che mi sono state mosse e dichiaro solennemente ancora una volta del resto forse è l'ultima volta che parlo in vita mia che la politica mi è sempre stata profondamente estranea che mi sono sempre sforzato nella misura delle mie forze di essere soltanto un pastore d'anime. E da qui diciamo siamo appunto all'inizio degli anni venti va avanti appunto questa strategia antireligiosa con l'idea che vanno estirpati quelli che vengono chiamati per i giudizi religiosi o anche le sopravvivenze del passato. È una politica che diventa ancora più evidente nel corso del processo di collettivizzazione e questa diciamo politica nuova che viene avviata da Stalin tra la fine degli anni venti e gli anni trenta che appunto la collettivizzazione quindi di fatto i contadini dovevano abbandonare le loro piccole proprietà e andare in fattorie collettive. Quindi da qua il termine appunto di collettivizzazione a cui si aggiunge un altro termine difficilmente traducibile in italiano la deculachizzazione cioè bisognava come disse Stalin sopprimere i culachi come classe. C'è chi erano i culachi? I culachi erano i contadini ricchi ma laddove per contadino ricco bastava che uno avesse un piccolo appezzamento di terreno e una mucca. Già questo lo faceva un culac. E c'è una stretta relazione tra questi due processi che sono appunto la collettivizzazione e la deculachizzazione da una parte e la persecuzione dei cristiani e l'accadimento sulla chiesa dall'altra. Come mai? Mi vorrei un attimo soffermare brevemente su questo aspetto perché è un aspetto poco noto ma è l'aspetto a mio avviso che più di altri ci dà la misura di quella che è stata la persecuzione antireligiosa in Unione Sovietica. Dobbiamo tenere presente che l'Unione Sovietica era un paese di contadini e la stragrande maggioranza della popolazione sovietica ancora negli anni 30 era costituita da contadini. Secondo il censimento del 37, 1937 che è chiamato il grande censimento staliniano quando era già stato quindi avviato il processo di industrializzazione che come dicevo inizia tra la fine dell'inizio degli anni 30 ma nel 37 i contadini erano ancora oltre i due terzi della popolazione. Peraltro, apro e chiudo la parentesi, questo censimento del 37 è importante perché è un censimento condotto nel pieno del grande terrore, quindi nel pieno delle persecuzioni contro i cristiani e non solo, contro tutta una serie di categorie sociali. Ma per volere dello stesso Stalin nel censimento era stato inserito un quesito in cui si doveva dichiarare se si era o meno credenti. Nonostante si fosse nel pieno delle persecuzioni e nonostante il fatto che non si era obbligati a dichiararlo, la stragrande maggioranza della popolazione non solo russa ma dell'URSS e quindi dell'Unione Sovietica si dichiara credente, cioè oltre 55 milioni di persone su un totale di circa 97 milioni di intervistati, cioè il 56,7% della popolazione. Quindi questo ci dice che dopo 20 anni di persecuzione la stragrande maggioranza della popolazione non solo era credente ma non aveva paura di dichiararsi tale. E questa percentuale peraltro variava dai due terzi della popolazione delle campagne a un terzo di quella delle città. Allora questo ci dice una cosa appunto che c'è una profonda religiosità della cultura contadina e questa cultura contadina è guardata con estremo sospetto dal governo sovietico fin dalla sua affermazione perché è una cultura considerata altra rispetto alla modernità rappresentata dal marxismo e questo spiega molto di quell'atteggiamento di disprezzo e di diffidenza che i dirigenti sovietici hanno nei confronti delle masse contadine. E qui ci sono stati tantissimi studi che non vi sto a riferire ma sono importanti perché hanno messo in luce quella che viene chiamato uno scontro irriducibile tra bolshevichi e la popolazione contadina fedele alla chiesa e le sue tradizioni. Quindi uno scontro che si trasforma, come ha scritto qualcuno, in una vera e propria lotta tra due civiltà profondamente diverse, l'una ostinatamente religiosa e l'altra ostinatamente antireligiosa, quella bolshevica. Quindi è qui che questo ci spiega perché c'è questa unione tra la lotta, gli slogan per esempio anche leggendo i documenti dell'epoca, i giornali dell'epoca era contro il pope e contro il kulak, quindi mondo religioso e mondo contadino vengono associati. E quindi la collettivizzazione diventa anche guerra dello stato ateo alla tradizione e a quel punto di riferimento insostituibile che la chiesa rappresentava per la civiltà contadina. Quindi la chiesa anche come edificio era il simbolo del villaggio, era quello attorno a cui la comunità si riuniva. Ha scritto una studiosa, la chiesa apparteneva alla comunità, era l'icona nella storia del villaggio, delle tradizioni e dei principali eventi della vita, della nascita, dal matrimonio alla morte. Chiudere la chiesa significava eliminare anche fisicamente il deposito di cultura, di tradizione e memoria storica che si conservava in un villaggio e che era l'antagonista, come dicevo, irriducibile dell'ateismo comunista. Quindi gli anni 30 segnano in tal senso la distruzione dell'universo contadino tradizionale e religioso, con una persecuzione sistematica dei credenti, che persone semplicissime si leggono dei risoconti di, per esempio, anziane che raccolgono firme, che non hanno paura di mettere anche a repentaglio la propria vita per salvare le proprie chiese e i propri parroci. Dicevo, forse è un aspetto meno noto della vicenda ortodossa degli anni 30, ma eloquente dell'attaccamento della popolazione alla chiesa. Gli anni 30, come dicevo, sono anche gli anni del grande terrore, delle eseguzioni sistematiche sia dei membri del clero che dei laici, il cui picco fu toccato in quel terribile biennio che furono gli anni 1937-38. È stato stimato che soltanto in quel biennio furono arrestati oltre 165.000 periti, di cui 105.000 furono fucilati. Ho dimenticato, mi dispiace una cartina, ma provo a descriverla, che ci dice quella che è stata la geografia del martirio di massa sovietico, costituita da luoghi oggi divenuti memoriali di nuovi martiri, come dicevo, dopo il crollo dell'Urs c'è stato tutto il recupero della memoria e anche, appunto, l'edificazione di luoghi che ricordano quello che è avvenuto. I luoghi dove avvennero, per esempio, le fucilazioni e le sepolture di massa. Luoghi come la foresta di Bikivniak, vicino a Kiev, oppure il poligono di tiro di Levashovo, vicino a San Pietroburgo, o quello di Butov, forse il più famoso, nei dintorni di Mosca. Sono luoghi di dolore e di martirio, dove vennero prima concentrati, poi fucilati e infine sepolti migliaia di credenti di tutte le confessioni religiose, insieme ad altri cittadini sovietici. Quindi furono una delle categorie, perché così venivano definite, di cittadini sovietici che andavano eliminati. Quindi, oltre ai credenti e religiosi, i kulakhi, di nuovo, quei pochi che erano rimasti, gli ex membri dei partiti che avevano ostacolato i bolscevichi al momento della presa del potere, vecchi membri della Guardia Bianca, ex funzionalizzaristi, prigionieri politici e molti esponenti delle minoranze, di cui moltissimi non ortodossi. Perché polacchi, tedeschi, oltre che tantissimi ebrei. E qui c'è un aspetto, su cui poi tornerò alla fine, che è, come dire, un aspetto non solo ecumenico, ma anche interreligioso di questi ecidi di massa. Allora, di tale geografia del martirio sovietico fa parte la rete dei Lager, che ha il suo centro ideale nel monastero delle isole Solovki. Grazie. Vabbè, comunque è quello. L'altro è un po' piccolino, ma... Vabbè, lasciamolo. Ah, ecco, si chiude. Mi dispiace. Quindi questo grande monastero nell'arcipelago delle isole Solovki, sul Mar Bianco, che viene, un luogo di rara bellezza, mi spiagno che non si vede, ma è un posto bellissimo, dove appunto nel quindicesimo secolo era stato costruito questa monasteria di Irpokra, una sorta di cittadella, che viene trasformato nel primo Lager sovietico, già negli anni venti, con la profanazione, quindi, del monastero, santuario, che era stato per secoli metà di pellegrinaggi, e che assume un profilo paradossale, proprio perché le Solovki vengono scelte come luogo di detenzione e di prigionia per i cristiani. Quindi, possiamo dire paradossale, perché diventa meta di un nuovo pellegrinaggio, sì, ma è un pellegrinaggio forzato, per vescovi, monaci, preti, laici, credenti, non solo ortodossi, ma di tutte le confessioni religiose. Qui, vediamo se le altre vanno, no, se ci tengo il dito sopra, niente, non si vede niente, vabbè, facciamo a meno. Avevo messo l'immagine, appunto, tra i tantissimi che vennero qui detenuti. Sì, sì, vado pure avanti. Queste, appunto, sono le isole Solovki, e con il monastero al centro. Questa. Grazie. Ecco, questo si chiama Anatoly Zhurakovsky e, appunto, fu fucilato insieme a molti altri preti in queste isole ed era una personalità di altissimo profilo spirituale, fondatore a Kiev di una fraternità di laici che univa donne e uomini di ogni estrazione sociale e che aveva iniziato tutto un lavoro di comunità al servizio dei poveri e con una forma di preghiera comunitaria molto particolare. E, appunto, fu tra i molti che furono qui uccisi. Ecco, ho citato le Solovki perché credo che, appunto, la riflessione sui nuovi martiri non possa prescindere dal riferimento storico all'universo concentrazionario. Cioè, nel Lager, migliaia di cristiani, vittime delle persecuzioni comunista e nazista, hanno trovato la morte nel corso del Novecento. Ma questi luoghi sono anche stati il luogo dove essi hanno esercitato la carità, umanizzando con la loro presenza dei posti che erano veramente degli inferni, dei luoghi infernali. Cioè, paradossalmente, il gulag sovietico, così come il Lager nazista, è diventato uno dei luoghi dell'unità dei cristiani, che sono stati prigionieri insieme in questi luoghi, ma che qui si sono anche incontrati, hanno dialogato, hanno convissuto, hanno pregato insieme. In alcuni casi hanno celebrato insieme la liturgia, e insieme hanno esercitato la carità. E abbiamo qua questa, appunto, l'icona dei nuovi martiri del Novecento, che la citava prima Giorgio, si trova alla Basilica di San Bartolomia, all'isola Tiberina, Roma, che Giovanni Paolo II ha voluto fare come luogo dei nuovi martiri, come luogo della memoria dei martiri del Novecento. Anzi, dei nuovi martiri, perché il martirio, appunto, dal Novecento, poi è tornato di attualità, e ancora oggi, no? Vediamo come anche questo nostro nuovo millennio sia un millennio caratterizzato, sia un tempo caratterizzato dal martirio dei cristiani. Ecco, e in questa, come vedete, appunto, nell'icona, al centro dell'icona, c'è una cattedrale fatta di filospinato, come una grande basilica di filospinato, da cui, peraltro, abbiamo tratto l'immagine dell'incontro di oggi, che vedete, se si può un pochino ingrandire, perché questa immagine raffigura esattamente una scena delle isole Sol of Key, di cui abbiamo una testimonianza, quindi è tratta da una testimonianza che è stata raccolta, che è questa che vi leggo. Unendosi nello sforzo, lavoravano insieme un vescovo cattolico ancora giovane, e un vecchietto emaciato, escarno, con la barba bianca, un vescovo ortodosso, antico di giorni, ma forte di spirito, che spingeva energicamente il carico. Chi di noi avrà un giorno l'avventura di far ritorno al mondo, dovrà testimoniare quello che vediamo noi qui adesso, e ciò che vediamo è la rinascita della fede pura e autentica dei primi cristiani, l'unione delle chiese, nella persona dei vescovi cattolici e ortodossi, che partecipano unanimi nell'impresa, un'unione nell'amore e nell'umiltà. Credo che appunto questa testimonianza che viene da una persona che era lì, che quindi ha visto con i suoi occhi, in quanto anche lì prigioniero, questa scena appunto del giovane vescovo cattolico e dell'anziano vescovo ortodosso che insieme spingono appunto questo carro pesante, credo che sia veramente una immagine emblematica di che cosa ha voluto dire l'unità dei cristiani in un luogo di persecuzione. Il gulag sovietico e il lager nazista sono due aspetti dell'universo concentrazionario dove si sono incontrate cristiani di tutte le fedi e vorrei ancora evocare una storia, l'ultima, che è quella di Mats Maria Skapzova, una donna molto particolare, esiste una biografia sua anche in italiano, una donna che veramente ha attraversato fasi cruciali della storia tra l'ottocento e novecento. Viene, nasce nella Russia seconda metà dell'ottocento, passa attraverso i difficili anni della rivoluzione bolshevica, poi emigra in Francia e matura una profonda conversione religiosa. Lei che era madre di figli, ho messo questa foto, che sono il prima e il dopo, fonda un monastero a Parigi in cui lei vive una sorta di monachesimo nel mondo. Aiuta i poveri a partire dai tanti immigrati russi che in quell'epoca, come lei, avevano abbandonato la Russia e si trovavano in difficoltà nell'esilio francese. Visita i malati negli ospedali psichiatrici, apre una casa per le persone senza fissa dimora. Maria spende la sua vita per gli altri senza stancarsi. C'è una bellissima testimonianza di un suo amico, un professore dell'Istituto Ortodosso San Sergio di Parigi, che scrive Mazz Maria sa fare di tutto, lavori di filagnameria, di carpenteria, tinteggiatura, sa cucire, ricamare, lavorare i ferri, disegnare, dipingere icone, pulire pavimenti, battere a macchina, preparare il pranzo, eccetera, eccetera. C'è una donna che non riconosce le leggi delle natura, non capisce che cosa sia il freddo, può non mangiare e non dormire per giorni, nega la stanchezza e la malattia, ama il pericolo, non conosce la paura, odia ogni comfort, sia materiale che spirituale. È una donna che è descritta però non come un'eroina, ma come un'anima ardente, come una donna, appunto ci sono queste testimonianze che parlano del suo buon umore, del suo senso dell'umorismo, così diverso dal conformismo clericale. A un certo punto però avviene la guerra, la Francia è occupata dai nazisti e davanti alle necessità degli ebrei braccati e perseguitati, Maria non si tira indietro. Insieme a un prete, padre Dimitri Klepinin, che condivide con lei le fatiche dell'accoglienza, si procura falsi certificati di battesimo e nasconde gli ebrei. Dice a un amico, non c'è una questione ebraica, c'è una questione cristiana, è giunto il tempo della confessione di fede. L'8 febbraio del 43 è arrestata insieme al figlio Iuri, a padre Dimitri e ad altri suoi collaboratori. Secondo il racconto della madre, la gente della Gestapo, venuto per l'arresto, le avrebbe detto lei ha educato male sua figlia, aiuta soltanto i giudei, al che la madre di Mazzamaria avrebbe risposto «Non è vero, mia figlia è una vera cristiana e per lei non c'è né greco né ebreo, ma c'è l'essere umano. Ha aiutato i malati di tubercolosi, i pazzi e ogni genere di infelici. Avrebbe aiutato anche lei se si fosse trovato in pericolo». Maria muore nel campo di concentramento di Ravensbrück il 31 marzo del 1945, un venerdì santo, e ha raccontato Genevieve de Gaulle che è la nipote del generale de Gaulle che è anche lei internata nello stesso campo di concentramento di Ravensbrück. Scrive «Mazzamaria sul suo pancaccio organizzava dei veri e propri circoli dove raccontava della rivoluzione, del comunismo, del suo impegno politico e sociale, perché in gioventù era stata social rivoluzionaria e talvolta più in profondità della sua esperienza religiosa. Mazzamaria ci leggeva dei brani del Vangelo, commentava quanto letto in poche parole, pregavamo e talvolta cantavamo piano. Genevieve de Gaulle era una cattolica praticante la cui fede alcuni dicono era il motore della sua azione. Mazzamaria era una monaca ortodossa, due donne diverse, Genevieve peraltro ha fatto parte della resistenza francese, quindi due donne molto diverse ma con in comune il fatto di essere cristiane e condividono la stessa esperienza del lager. Nella parabola esistenziale di Maria, donna possiamo dire vissuta tra due mondi, quello russo orientale e quello parigino europeo occidentale, nella sua parabola resistenziale si incrociano le vicende dell'Oriente e dell'Occidente europei ed è emblematico che Maria sfuggita al totalitarismo sovietico muoia poi in un lager tedesco. Quel drammatico crocevia della modernità e del novecento e finì lì per essersi opposta alla Shoah. Nel 1985 è stata riconosciuta giusta delle nazioni dallo Yab Hashem, l'istituto come sapete l'istituto nazionale per la memoria della Shoah in Israele e poi nel 2004 è stata canonizzata dal patriarcato di Costantinopoli sotto cui ricadeva la giurisdizione della chiesa ortodossa di Parigi e qui appunto c'è l'icona che la celebra. Quindi in conclusione ecco io volevo sottolineare una cosa ecco questa storia sembra una storia è una storia senz'altro lontana da noi è una storia che ci dice come il martirio in Unione Sovietica abbia accompagnato si sia accompagnato alla resistenza di milioni di fedeli parlavo prima delle milioni di contadini che non cessarono di professare la loro fede in maniera il più spesso delle volte silenziosa ma tenace però appunto quello che vorrei sottolineare è che a mio avviso questo non è soltanto un discorso che riguarda il passato ma riguarda il presente credo molto il futuro conosciamo la famosa la celebra affermazione di Tertulliano il sangue dei martiri insieme dei cristiani ma credo che appunto questa questa testimonianza queste testimonianze abbiano molto da dire oggi non soltanto su come l'unità dei cristiani sia stata più forte nei momenti difficili come sono stati i momenti di cui abbiamo parlato nel corso del novecento ma ci dice qualcosa anche su come nei momenti difficili io credo che quello che viviamo oggi sia un momento difficile per il mondo certamente non per persecuzioni terribili di cui abbiamo parlato ma per tanti motivi che conosciamo bene ma credo che questo ci dice anche qualcosa su come nei momenti difficili i cristiani possano cercare trovare sperimentale sperimentare una nuova forza solo se sono uniti cioè davanti alle grandi sfide siamo chiamati a presentarci insieme e con questo e con questo io mi fermo se ci sono poi delle domande ti ringrazio Simona devo dire che appunto in questa in questa tua presentazione così così chiara anche grazie ad alcune storie che diciamo ci aiutano sempre a rendere concreto quello che quello che si dice la mia impressione l'impressione che ho avuto io è stata quella di sentire come essere cristiani non significhi mai uscire dalla storia e di come la storia del novecento che tutti studiamo anche se ancora oggi a scuola si studia troppo poco perlomeno si studia fino diciamo non si studia fino in fondo ma la storia del novecento che tutti studiamo sia anche una storia di tanti cristiani che hanno attraversato questo secolo senza paura che hanno attraversato questo secolo stando vicino ai più deboli e immergendosi nelle tante sofferenze che hanno contraddistinto questo secolo e come anche lo abbiano umanizzato ecco l'immagine dell'icona che si mostrava prima è come in fondo un grande affresco anche delle sofferenze di questo secolo che è stato un secolo di guerre mondiali di lager che è stato un secolo di genocidi di persecuzioni in tutti i continenti in tutte le fasi della storia e di come in fondo tante testimonianze silenziose poco note anche di tanti cristiani in questi contesti così diversi hanno permesso di mantenere accesa potremmo dire la luce della vita la luce della speranza la luce in fondo dell'umanità di fronte alle crudeltà alle enormi indicibili inimmaginabili crudeltà che sono state inflitte per ragioni politiche per ragioni ideologiche o anche solo per avidità e ragioni di potere personale in questo secolo ed è penso quando tu dicevi citavi alla fine in fondo come anche quello che stiamo vivendo sia un un momento per certi versi grave anche se anche se non paragonabile per violenza se non altro a quelli che sono stati vissuti nel novecento però sicuramente per i cristiani la sfida non è solo quella di vivere dentro la storia ma di dare una testimonianza nella storia sicuramente quella dell'unità è una è una frontiera non so per quanto differibile ecco per testimoniare cosa significa appunto essere uniti essere fratelli nel mondo di oggi io lascerei la parola alle persone che sono venute ascoltare al pubblico se ci sono appunto delle domande penso che possiamo darci un quarto d'ora direi abbastanza agevolmente quindi prego se vuole venire qui magari ripeto la domanda per chi sta ascoltando collegato domanda molto vasta peraltro la situazione attuale della chiesa ortodossa nella Russia di oggi è cambiata o è rimasta quella che è stata descritta nella conferenza facciamo forse un giro di domande sì sì possiamo raccogliere più di una domanda questa esperienza ha stimolato anche capire un approfondimento per l'esercito di un'unità che non avviene praticamente il servizio di psicologo ma che è tornare al contatto questa seconda domanda era se questa esperienza di unità vissuta nella persecuzione nel servizio comune ha stimolato dei tentativi di dialogo a livello teologico e dottrinale se mai posso iniziare a rispondere a questa e poi se ce ne sono altre allora la prima domanda è una domanda non so se abbiamo un'altra serata ci possiamo incontrare allora in estremissima sintesi la situazione è molto cambiata perché la chiesa ha smesso la chiesa ortodossa ha smesso di essere una chiesa perseguitata diciamo che in Russia è stata fatta una legge piuttosto controversa che riconosce le quattro confessioni tradizionali di cui appunto l'ortodossa è quella diciamo primaria e va detto che gli anni i primi anni novanta sono stati anni di grandissima riscoperta dopo gli anni dell'ateismo c'è stata una grande riscoperta della fede religiosa quindi sono stati gli anni in cui ci sono stati i picchi dei attesimi per esempio quindi che credo non si siano più rinnovati in quella misura quindi tantissime persone che riscoprivano le proprie radici le radici appunto nonni che avevano in qualche modo tramandato ma anche io mi ricordo ero andata all'inizio degli anni novanta mosca c'erano questi gruppi di catechesi di formazione che preparavano appunto se oggi diremo di catecumenate più che di catechismo e sono stati anni straordinari di una rinascita anche proprio degli stessi edifici religiosi sono stati gli anni in cui sono state riaperte le chiese e ne sono state restaurate alcune ricostruite da zero delle altre quindi c'è stato tutta questa effervescenza che va detto poi si è un po' scontrata con le sfide della secolarizzazione cioè questa Russia diciamo questa Unione Sovietica che diventa Russia su questo passaggio Unione Sovietica russa ci torno dopo è come un po' diciamo sono state aperte le porte e è entrato tutto insieme ed è entrata insieme entrata anche la secolarizzazione perché se noi guardiamo all'esperienza del periodo sovietico noi non possiamo parlare di una secolarizzazione era piuttosto quella dei diciamo soprattutto dei bolshevichi della prima fase dell'Unione Sovietica era una sorta di pseudo-religione laddove ai simboli religiosi si andavano a sostituire degli altri simboli ma anche concretamente quindi non era più l'angolo bello dove si tenevano le icone nella famiglia sostituito con le foto di Marx di Lenin e dei dirigenti sovietici c'è questa c'è stata quella rilettura del culto delle religie che è stato il corpo imbalsamato di Lenin sulla piazza rossa laddove si recuperano quelli che sono dei temi religiosi e si come dire si reinterpretano secondo dell'ideologia quindi non si può parlare di una secolarizzazione la secolarizzazione è arrivata con il crollo dell'Unione Sovietica o meglio già iniziato qualche segnale ad esserci con le prime aperture garbacioviane ma soprattutto appunto con il crollo dell'URSS quando appunto entra tutto entra anche la secolarizzazione e in un certo senso la chiesa anche si trova un po' impreparata davanti all'assalto e quindi è anche stato difficile poi appunto quella freschezza della rinascita religiosa dei primi anni 90 ecco poi un po' si spegne quando ci si trova davanti con le sfide poi forse più che della secolarizzazione sarebbe anche meglio parlare di globalizzazione all'epoca la chiave che si dava interpretativa era quella della secolarizzazione guardando oggi io direi a 30 anni di distanza forse più la globalizzazione quindi di fatto sono le sfide che oggi affronta la chiesa russa sono le stesse sfide che affrontano le chiese tutte quindi di un mondo che sembra sempre più allontanarsi no da una idea religiosa e spirituale della vita cosa che poi su questo si può discutere però è chiaro che c'è anche un problema di appunto di nuove forme di linguaggio da trovare quindi la chiesa in questo si è sentita molto sfidata si è trovata molto sfidata secondo aspetto diciamo c'è stato tutto anche l'aspetto del recupero della dell'esperienza del martirio quella a cui già qui già accennavo per esempio nel 2000 ci fu questa grandissima questa in diverse celebrazioni una in particolare ma ce ne fu una serie in cui ci fu la più grande canonizzazione mai avvenuta nella chiesa russa quindi molte di queste anche tra le persone che ho citato furono canonizzate quindi furono riconosciuti come santi della chiesa ortodossa ma ci fu proprio una quindi appunto sia un recupero della memoria un recupero dell'esperienza che era stata fatta durante sotto il regime sovietico poi l'altro elemento appunto il passaggio dall'unione sovietica alla russia perché come sapete con il crollo dell'unione sovietica quello che era un unico stato dalle cenere di un unico stato ne nascono 15 che sono 15 nuovi stati indipendenti di cui la federazione russa è la prima per grandezza ma la chiesa ortodossa russa rimane l'ultimo organismo diciamo sovranazionale di quello che era l'unione sovietica tranne che diciamo per il caso della Giorgia che è molto peculiare perché la chiesa giorgiana era una chiesa antica che già in epoca sovietica perché era stata incorporata la chiesa russa sotto l'impero russo poi in epoca sovietica riacquista la sua indipendenza quindi già in unione sovietica aveva come dire era la Giorgia aveva una propria chiesa ma per il resto il territorio canonico dell'unione sovietica corrisponde di territori sovietici corrispondeva appunto al territorio o meglio scusate il territorio dell'unione sovietica corrispondeva al territorio canonico della chiesa russa con tutti i problemi che adesso sappiamo su cui non mi soffermo perché in realtà oggi per esempio in Ucraina è nata una chiesa che appunto si pone come chiesa nazionale quindi è un grosso problema perché si è di fatto consumato uno scisma tra il patriarcato di Mosca e non solo questa chiesa ucraina ma anche il patriarcato di Costantinopoli che l'ha appoggiata quindi diciamo che oggi la situazione è piuttosto è piuttosto complessa quindi non che non ci siano difficoltà questo per dire però effettivamente con il 91 si è aperta una nuova una nuova stagione per quanto riguarda l'esperienza si è stimolato il dialogo teologico e dottrinale c'è da dire che per quanto riguarda i rapporti tra chiesa russa scusate tra chiesa ortodossa in generale e chiesa cattolica per esempio le divisioni dottrinali sono pressoché cioè sono minime è più un discorso di storia di tradizione che ha diviso e credo che però il discorso questo discorso del martirio sia un discorso molto unitivo ci sono state varie occasioni di incontro di scambio di esperienze così come unitivo per esempio il tema della carità quindi al di là del discorso dottrinale laddove i cristiani siano cattolici ortodossi incontrano sono amici dei poveri e condividono questa esperienza questo è un altro grandissimo tema unitivo insieme al tema del martirio è chiaro che è tutto un discorso su cui su cui occorre lavorare ma può essere anche una grande un grande terreno anche per superare invece quelli che sono certe un pass che vive oggi il dialogo ecumenico diciamo tra specialisti ecco quindi più un ecumenismo o meglio un lavoro per l'unità che viene dal basso c'era forse una domanda sì diciamo che io non ho parlato della chiesa cattolica in Russia sotto il regime sovietico è una storia che meriterebbe anch'essa di essere raccontata è chiaro che è una piccola storia perché la comunità cattolica era una piccola realtà anche piuttosto circoscritta a determinati ambienti per esempio dell'intelligenza e comunque fu in pratica liquidata veramente durante credo che negli anni 50 per esempio nell'ex San Pietroburgo diventata Leningrado non ci fosse più nessun nessuna realtà cattolica riconosciuta mentre per esempio a Mosca credo che la chiesa di San Luigi forse per un periodo fu San Luigi dei Francesi fu per un periodo chiusa ma poi riprese l'attività quindi rimase un piccolo presidio di cattolici quindi quando noi parliamo di dialogo tra cattolici ortodossi non ne parliamo tanto a livello diciamo della Russia perché appunto la realtà cattolica è una piccola realtà che è rinata anch'essa poi dopo il crollo dell'Unione Sovietica ma è più un discorso appunto tra la chiesa cattolica e la chiesa ortodossa russa come sapete c'è stato questo importantissimo incontro nel 2016 da Papa Francesco e il patriarca della chiesa ortodossa russa Kirill che si incontrarono a Cuba adesso pare che si parla di un secondo incontro che potrebbe avvenire a breve non lo so senz'altro il tema dei martiri è un tema unitivo perché è un tema che non divide perché appunto queste persone come abbiamo visto hanno condiviso le sofferenze a cui sono stati sottoposti appunto questo poi è un discorso che travalica anche il discorso dell'Unione Sovietica sarebbe lunghissimo per esempio anche da fare il discorso in parte l'esperienza di Matt Maria ma quello anche il discorso appunto dei lager nazisti laddove ci fu questo incontro tra persone di fede diversa quindi credo che sia un tema che possa molto unire oggi le nostre chiese non so se qualcun altro voleva ma dal pubblico in streaming se qualcuno dal pubblico in streaming non può intervenire in questa modalità non può intervenire solo prenotare delle domande per essere abilitati era per vedere se c'era qualcuno da casa forse un assunto della sua relazione se hai qualche suggerimento anche di lettura forse ma ci sono tante cose che sono allora senz'altro un libro che io consiglio è il secolo del martirio di Andrea Riccardi che è un oltre ad essere fondatore della Comunità di Sant'Egine Andrea Riccardi lavorò per la commissione del giubileo quindi questa commissione che lavorò per Giovanni Paolo II di raccolta di tutte le testimonianze sul martirio nel novecento e il risultato fu questo libro che è stato più volte pubblicato ripubblicato è uscita anche un'edizione aggiornata qualche anno fa in cui appunto si fa una sorta di geografia del martirio quindi proprio sia dal punto di vista confessionale ma anche dal punto di vista geografico quindi con una visione veramente a trecentosessanta gradi di che cosa ha voluto dire questo secolo che come lui dice giustamente è tornato ad essere parla appunto di un secolo io ho parlato di un secolo che è tornato ad essere un secolo di martiri lui dice proprio il secolo del martirio poi ci sono più diciamo ci sono stati vari studi puntuali ecco su alcune per esempio c'è un libro che si chiama stunning e il patriarca se qualcuno ha la pazienza un librone di credo 500 pagine ma è tutta la vicenda delle persecuzioni e non solo anche dei rapporti tra la chiesa ortodossa e il regime comunista soprattutto nel periodo diciamo dall'inizio ma soprattutto nel periodo staliniano arrivando anche a quella che è stata un pochino la svolta segnata dalla seconda guerra mondiale la seconda guerra mondiale in unione sovietica è stata importante per tanti motivi ma anche perché per quanto riguarda le relazioni tra lo stato e la chiesa ha visto una ripresa dei rapporti Stalin come dire aveva bisogno a un certo punto della chiesa durante la seconda guerra mondiale per mobilitare una popolazione che come abbiamo visto restava una popolazione profondamente religiosa ma anche perché aveva l'idea tutta geopolitica di quale Europa costruire all'indomani della guerra e un soggetto così non solo prestigioso ma autorevole come la chiesa ortodossa poteva tornare utile in questa prospettiva diciamo di tipo geopolitico e quindi diede per esempio la possibilità io di questo non ne ho parlato perché una cosa piuttosto complicata ma durante il regime sovietico nel 25 muore il patriarca e in pratica viene impedito ai vescovi ortodossi di eleggere un nuovo patriarca questo fino alla guerra quindi con la svolta del 43 Stalin dà la possibilità alla chiesa ortodossa di eleggere nuovamente il patriarca il che vuol dire come dire rimettere le basi della chiesa cioè questa chiesa che era esangue pensate che alla fine della guerra di tutti i vescovi ortodossi ne restavano della chiesa russa ne restavano in libertà quattro quindi era una chiesa ormai ridotta veramente esangue e con questa svolta si dà la possibilità alla chiesa insomma non diciamo di rinascere di riporre le basi per una rinascita e no questo per dire come è una vicenda che insomma ha avuto varie varie diciamo che dalla guerra dalla seconda guerra mondiale poi noi non abbiamo più una persecuzione come ho descritto io adesso di appunto fucilazioni arbitrarie di cili di massa questo non vuol dire però che la chiesa non continuasse a restare perseguitata e lo resterà di fatto fino all'avvento di Mikhail Gorbaciov nel nell'ottantacinque quindi ma sono persecuzioni più per via se vogliamo così dire amministrativa quindi se uno era in determinate posizioni lavorative faceva battezzare il figlio ci potrebbero essere delle ripercussioni soprattutto se erano persone in una situazione di responsabilità all'interno dello stato sovietico quindi non bisognava troppo esporsi ma bastava andare al di fuori di quella che era la celebrazione della liturgia per incorrere nella persecuzione vera e propria io stessa ho conosciuto questo cristiano lui nel 1950 si chiama Aleksandr Rogorodnikov purtroppo non ha mai scritto niente dovrebbe scrivere la sua testimonianza ma era un giovane che con suoi amici aveva fondato una sorta di gruppo indipendente di giovani che si raccoglievano insieme per studiare la sacra scrittura approfondire temi teologici e bene loro furono proprio portati nei gulang e lui è sopravvissuto poi è tornato ha raccontato in varie occasioni questa sua esperienza quindi voglio dire restano comunque anche persecuzioni pesanti è chiaro che non è più quella persecuzione di massa come noi troviamo appunto negli anni negli anni 20 negli anni 30 come ci sono arrivato a questo dai suggerimenti dai suggerimenti per la lettura quindi questo testo è più poi ci sono per esempio libri che sono dedicati ad alcune figure specifiche no per esempio molto bella però anche quella è una storia più dell'ultimo periodo sovietico la vicenda di padre Alexander Nien che è stato l'ultimo martire dell'unione sovietica lui fu ucciso del settembre del 1990 probabilmente ma non si è mai capito dai servizi dal KGB ed era un uomo che nella quella rinascita di cui parlavo prima quindi in quel risveglio che comincia già nell'epoca gorbaceviana comincia lui ne veniva da una famiglia ebraica e si era convertito si era battezzato con la madre e si era poi diventato un preto ortodosso e comincia a raccogliere attorno a sé quando ormai si poteva fare senza essere perseguitati quindi con una serie di persecuzioni amministrative però diciamo con qualche piccolo spazio di libertà lui di questi spazi di libertà ne approfitta per fare queste sorti di scuola della parola di evangelizzazione di avvicinare i giovani al Vangelo alla scrittura e non si è mai capito il perché poi sia stato ucciso in quel modo quindi però per dire è considerato l'ultimo martire ecco su di lui per esempio ci sono varie cose che si possono leggere e che danno anche un po' come dire un po' lo spessore il senso di cosa era stato cos'era la vita della chiesa ma la vita dei credenti nell'ultimo periodo sovietico ma poi probabilmente ci sono altre cose ma così non sono preparate bene io direi che a questo punto possiamo chiudere ti ringrazio grazie a voi ancora anche con questi ultimi suggerimenti si padre Alexander il termine conferma è una figura veramente molto interessante da approfondire libri su di lui e anche quelli che lui ha scritto i libri che lui ha scritto che sono stati in parte qualcosa è stato tradotto in italiano poi ecco un'altra scusa Giorgio anche di Mats Maria di cui parlavo prima esiste una biografia che purtroppo ha degli erroracci terribili cioè probabilmente gli errori proprio di però resta la biografia cioè per esempio nelle date ecco se uno si mette a fare i conti ogni tanto si perde ma è una biografia che rende bene l'idea di questa esperienza straordinaria di questa donna bene quindi andiamo a casa anche con i compiti ti ringrazio Simona ti ringrazio anche per appunto la chiarezza con cui hai affrontato un tema non facile diciamo da da affrontare per la sua per la sua complessità anche data l'ora ma penso che ci ha aiutato a seguire bene fino in fondo tutta la questa questa grande panoramica su queste vicende io volevo prima di salutarvi oltre a ringraziare quindi nuovamente Simona Merlo tutti voi che siete venuti stasera e anche chi ci ha seguito online volevo darvi due appuntamenti il primo visto che appunto ci ritroviamo in occasione della settimana per l'unità dei cristiani sarà la preghiera ecumenica organizzata dalla diocesi di Pavia assieme a tutte le confessioni cristiane presenti nel nostro territorio che si svolgerà martedì 25 gennaio alle 21 nella chiesa evangelica della riconciliazione che è in Viale Cremona 209 quindi martedì prossimo alle 9 e l'altro appuntamento è invece con la prossima anche di queste nostre conferenze appunto organizzate dalla comunità di Sant'Egidio assieme al collegio Santa Caterina che si terrà lunedì 31 gennaio tra dieci giorni verrà a parlare Don Cesare Pagazzi che è un teologo dell'Istituto San Giovanni Paolo II che parlerà dell'enciclica Fratelli Tutti un'enciclica che forse a causa del covid è stata troppo poco letta e troppo poco commentata e quindi ci sembrava invece necessario ritornare su questa enciclica e soprattutto sul tema della fraternità in un tempo di isolamento come questo ecco ci sembra ci sia particolarmente bisogno di riscoprire la fraternità quindi questa sarà lunedì 31 alle 18.30 qua stesso luogo ma non stesso orario quindi vi ringrazio ancora e spero appunto di rincontrarvi presto buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti